domenica 24 settembre parte su canale 5 in prima serata l'isola di pietro la nuova fiction che farà compagnia gli spettatori per sei serate complessive e che soprattutto vede il ritorno alla lunga serialità di gianni morandi erano 17 anni che il cantante non si prestava alle fiction ma il progetto l'ho assolutamente convinto quando sono approdato in tv la prima volta nasceva la grande rai ha ricordato morandi in conferenza ho fatto sette fiction le ultime tre commedia set tre anni fa abbiamo fatto invece due serate all'arena di verona e scary il nostro direttore mi ha chiesto di fare insieme altre cose ho risposto volentieri quando è venuta fuori l'idea di questa storia mi è sembrata molto bella la conferenza stampa è stata anche l'occasione per parlare di sanremo e dei rumors che vorrebbero alla conduzione il suo amico e collega claudio baglioni secondo me la rai ha fatto una scelta straordinaria perché una persona integgerrima ha commentato è la scelta migliore che potessero fare dopo tre anni di conti e dopo fazio sono convinto che farà un grande lavoro ancora non ci siamo sentiti io ancora a sanremo mi manca solo quello in questo periodo se mi chiama magari una sera vado ma è ufficiale poi che c'è baglioni no e allora conclude scherzando morandi